mamma mia questa tosse salve bentornati ancora una volta su radio alastor letteralmente l'unica radio infernale che vi tiene compagnia e quest'oggi è uscito ufficialmente il nuovo design di cherry bomb e come per serpentius non cambia niente non so cosa dire cioè nel senso questo video dovrebbe essere cercare di essere lungo comunque cercare di spiegare un po il design di cherry ma non cambia niente cioè nel senso gli hanno aggiunto soltanto una manica rossa e gli hanno diminuito i capelli gli hanno fatto i denti più come i miei e niente insomma non cambia niente perché alla fine alla fine della giornata ragazzi questi sono i personaggi alla fine non conta il cambiamento il fatto che siano tutti rimasti uguali e note il fatto che siamo peccatori peccatori non cambiano mai infatti charlie se notate è stata l'unica che ha ottenuto un cambiamento effettivamente significativo questo perché lei non è un peccatore lei può cambiare sono passati anni dall'episodio pilota da quando abbiamo messo piede nell'hotel e quindi ha senso il fatto che lei sia l'unica che sia cresciuta mentre noi siamo rimasti tutti uguali ma cambiamo argomento per un attimo passiamo a dell'uva boss perché è stato rilasciato uno sneak peek succulento interessante in questa scena possiamo vedere Octavia che ruba il grimorio da dietro un quadro nell'ufficio della IMP chissà che cosa potrebbe accadere io mi aspetto decisamente l'episodio per Halloween e voi fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate di queste notiziole noi ci rivedremo molto presto restate sintonizzati non ci rivedremo molto presto non ci rivedremo molto presto